a via streaming dovremmo essere online ce l'abbiamo fatta questi problemi tecnici problemi tecnici che ci affliggono tutte le volte che riesco a fare una diretta che ci provo più che altro allora ragazzi oggi oggi ho cambiato un attimo la diretta perché non ho tempo per fare una portfolio review oggi ho poco tempo a mia disposizione quindi ragazzi facciamo una chiacchierata velocemente sulla fotografia visto che questo mese ancora non ho fatto la diretta su appunto la diretta sul mese della fotografia allora quindi 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 voglio dirvi non so se mi seguite su instagram ho pubblicato una foto su instagram una praticamente foto scattata a mezzogiorno e voi immagino che sappiate che il tempo più brutto della giornata il momento più brutto della giornata per fare le foto cioè più brutto diciamo con la luce un po peggio per fare la giornata è appunto mezzogiorno quando il sole è altissimo perché crea delle luci delle ombre dei contrasti che non tutti sanno utilizzare e quindi infatti ci sono molti fotografi che evitano di scattare addirittura a questa ora perché non sanno utilizzare la luce noi ci abbiamo noi ci abbiamo provato io e manuele e purtroppo ragazzi non riusciamo mai a trovare nessuno che ci faccia un video mentre si fa le foto perché se no ci sarebbe cioè sarebbe bello portarvi insieme a noi io provo a fare un po di instagram stories ma quando dobbiamo fare queste cose non c'è mai tempo per fare appunto video quindi se riusciamo prometto che vi porterò a scattare insieme a noi durante un prossimo shooting dai così almeno se riusciamo a trovare qualcuno che ci faccia un video si tira fuori qualcosa di carino allora vedo già che siete abbastanza anche oggi ciao Rocco ciao Angelo ciao Simone è da tantissimo ragazzi non facevo le live purtroppo sono stato parecchio impegnato e oggi sono riuscito a liberarmi appunto per voi come fare per modificare la propria foto Raffaele nella descrizione del file trovi la mail nella descrizione del link nella descrizione del link nella descrizione del video trovi un link per mandare appunto la tua foto da modificare e la modifieremo nella prossima nelle prossime live ciao Federica ciao Giovanni ciao Francesco complimenti per i tuoi video ce ne vorrebbero una valanga di più Federica arriveranno arriveranno sto lavorando anche ad una serie di video su Luminar ragazzi Luminar che è uscito oggi che è il 14 15 oggi è uscito Luminar 2018 e ragazzi se utilizzate il codice crazy ring tutto maiuscolo ve lo portate a casa anche con un bello sconticino visto che così via poi forse ci sta che io regali un paio di copie di Luminar non lo so non lo so però probabilmente farò una serie su Luminar dove forse regalerò qualche copia di Luminar perché perché sono gentile con voi e vi voglio premiare per questa cosa qui poi altra cosa su Instagram diretta Instagram ho estratto i vincitori delle tele quindi ho già incartato tutto ragazzi oh allora vi dico i vincitori Giuseppe Tracà ha vinto copio tappo l'indirizzo Giuseppe Tracà ha vinto ha vinto la Road to Monument ok questa è la prima poi ci abbiamo 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 Giovanni Scandroglio che ha vinto Griffith Observatory e devo attaccarci le cose dell'SD Aura sopra con tutti gli indirizzi fatti bene e domani domani le spedisco domani passo al Corriere a prenderle così almeno arriveranno direttamente venerdì ai vincitori non so se ci siete sul sulla chat chi ha vinto le stampe io spero di sì ma mi sa che non ci sono se no me l'avevano già scritto allora hai fatto delle belle foto al Mugello ho fatto delle belle foto Giovanni ora magari vedo se riesco a fare un album perché ora con Lightroom a parte anche prima si poteva fare con Lightroom CC quello nuovo la cosa bella è che puoi crearti di queste raccolte che sono visibili ovunque e si poteva fare anche prima però prima era diciamo un po' più complicato ora è molto più semplice farlo e si possono modificare tranquillamente online hanno sviluppato tutta questa cosa di Lightroom CC insieme a Lightroom Mobile perché ora non esiste più Lightroom Mobile ora esiste Lightroom CC e basta e così via quindi andiamo cioè farò una serie di raccolte in base agli shooting e così almeno potete vederli potete vedere quelli che ho fatto al Mugello che poi tra l'altro anche lì Giovanni sto facendo dovrei fare un video l'ho scritto ma non l'ho ancora non l'ho ancora registrato perché ho questo brutto vizio di scrivere le cose che devo fare e poi non le faccio mai perché c'ho sempre qualcosa da fare arrivo sempre tardi a tutti gli appuntamenti della mia vita perché appena sto per uscire da un posto mi viene in mente qualcosa da fare e sarò sempre in ritardo io sarò un ritardatario cronico per qualsiasi cosa e insomma volevo fare un tutorial appunto su come ho fatto quelle foto lì di Panning comunque con la 1300D e il 70-300 Tamron che sono una coppiata che insieme secondo me con 500€ si porta a casa 1300D più 70-300 Tamron e ci ho fatto delle fantastiche foto quella lì che avete visto nella copertina quelle lì che ho messo nel video poi ce ne sono altre vi farò vedere un pochino vi farò vedere un pochino tutto delle foto lì e poi ci sono altri video con il drone su come fare le foto con il drone su quale fare altre cose ci sono tantissime cose da fare in realtà avrei tantissimi video da fare arriveranno tutti prossimamente spero uno più uno prima non più tardi però arriveranno quale bel argomento ci proponi oggi allora vi propongo l'argomento che che argomento possiamo parlare possiamo parlare di qualsiasi cosa allora io vi terei di parlare di macchine fotografiche perché questa cosa qui non mi piace allora vi faccio una domanda io a voi allora voi ok quando siete arrivati dalla fotografia magari non conoscevate non conoscevate qualche fotografo famoso diciamo no o comunque qualche fotografo che che ha avuto importanza nella storia della fotografia ma forse conoscevate già qualcuno da prima quindi siete stati spinti da magari altri fotografi famosi a entrare nel mondo della fotografia e quindi voglio sapere chi se avete qualche fotografo a cui vi ispirate e così via oppure non conoscete lo stesso nessun fotografo famoso e non ne sono abbastanza famosi da essere conosciuti per voi oppure dopo che vi siete appassionati alla fotografia dopo che avete iniziato questa cosa della fotografia vi siete andati a cercare qualche fotografo e da lì avete imparato in base al loro stile per esempio io mi ricordo tantissimo tempo fa allora uno dei primi fotografi parlo per me poi magari scrivetemelo nei commenti e così almeno voglio vedere un pochino cosa ne pensate anche voi io uno dei miei primi fotografi che ho conosciuto è stato Kappa diciamo ok perché io a me piace molto a me fate conto a me è sempre piaciuta tantissimo la storia a me la storia è una delle materie che più mi ha affascinato fin dall'elementari cioè anche al liceo ero molto appassionato di questa cosa di storia e quindi io quando soprattutto delle parti delle guerre io sono appunto un appassionato di questa cosa quindi se non avessi fatto il fotografo avrei fatto il genio militare sono sempre di queste idee ho fatto anche feci anche la domanda per l'accademia militare ma poi non andai per appunto perché trovai un'altra cosa da fare anche lì peccato perché anche quello sarebbe stato una bella cosa mi sarebbe molto piaciuto fare l'accademia militare però ragazzi sono qui al posto invece che essere affari militare sono qui a fare video con voi quindi io spero che sia interessante questa cosa e insomma praticamente uno dei fotografi che trattava gli argomenti che piacevano a me quindi la storia la guerra era Kappa non è il mio fotografo preferito ok è uno dei primi oddio è tra quelli miei preferiti ma non è il mio preferito in assoluto è uno dei fotografi non a cui mi ispiro perché fa genere di foto totalmente diverso da quello che faccio io e tutti i miei fotografi preferiti in realtà fanno genere di fotografici diversi da quelli che faccio io non... fate conto che uno dei miei... allora vi racconto questa storia breve 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 praticamente venni a conoscenza di Kappa per merito di una ragazza che a quell'epoca andava a scuola con me e lei guardava queste foto di guerra su... non mi ricordo se era una rivista e così via no? il fatto sta che lei non aveva idea di chi fosse Kappa neanche io avevo idea di chi fosse Kappa diceva oh guarda bella queste foto e insomma se andò... andai a informarmi poi scoprì che era Kappa e da lì partì questa cosa della fotografia di guerra di Kappa e così via ed era tipo una... forse era un libro di scuola mi sembra forse un libro di scuola sì sul... appunto sulla seconda guerra mondiale o su... non mi ricordo cosa perché... parlava di quell'argomento lì e praticamente da quel momento in poi io... sentite là un po' che storia e credo fosse alle medie, alle medie mi sono appassionato a Kappa vedo immaginatevi tanti anni fa, a quell'epoca non c'erano cellulari, non c'erano smartphone, non c'era praticamente internet era agli albori, non sono così vecchio ragazzi però io a casa mia fate conto non ho avuto internet fino a che non sono arrivato al liceo, non ho avuto neanche un computer finché non era al liceo quindi io avevo pochissimo modo di informarmi delle cose se non dalle riviste o comunque dai giornali specializzati quindi io mi sono... mi sono appassionato a questa cosa qui seguendo le cose cartacee diciamo, non gli schermi e dava tutta un'altra impressione rispetto a guardare le foto sullo schermo dei fotografi di adesso sono totalmente diverse del senso, insomma vi sto annoiando ragazzi lo so, vi sto annoiando tantissimo però insomma mi sono appassionato tantissimo a Krober Kappa, poi da lì ho conosciuto tantissime altre fotografie di guerra però non è il mio genere preferito il fotografo di guerra, diciamo è la mia cosa che mi ha appassionato di più alla fotografia e fotografi di questo genere qui però non è la mia fotografia preferita, il mio genere fotografia preferito diciamo un altro che mi piace tantissimo è Salgado però anche lui non fa fotografie di guerra ha fatti fotografie più diciamo riguarda il genere umano non so se avete visto il suo ultimo progetto Genesi, fantastico, c'è stata anche una mostra qui vicino l'anno scorso mi sembra, io purtroppo non sono potuto andare a vederla però mi sarebbe piaciuto molto 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 mi sono semplicemente avvicinato, Francesco, mi sono semplicemente avvicinato giocando con la mia prima Reflex che mi fu regalata quindi non sapevi, anch'io ho iniziato così, cioè anch'io ho iniziato fate quanto con le macchine osegetta quando si andava sempre in vacanza mi regalavano le osegetta, cioè la nonna mi comprava le osegetta perché era l'unica cosa che ci si poteva permettere a quell'epoca e io ci andavo a giro con la questione osegetta e ci stavo ad ore a pensare agli scatti perché c'avevo solo tanto quegli scatti, magari dovevo starci una settimana in vacanza con i miei o con i miei nonni e avevo solo quei tipo 28-30 scatti, quant'era, non mi ricordo neanche il rullino della coda, quelle vecchissime e da lì poi mi sono appassionato ancora di più alla fotografia, quello era tutto ovviamente automatico ho preso la Reflex di mia papà, che mia papà aveva una Reflex che non usava tra l'altro più la usava quando io ero piccolissimo, tipo piccolinoinoino poi ha smesso di utilizzarla e la lasciava nell'armadio tipo per anni e io la trovai e disse ma questa è, quindi a quel momento in poi provai a utilizzare questa Reflex manuale e poi finalmente comprai una digitale, cioè finalmente, dipende, dipende da come la vedete voi come si fa a capire se un obiettivo ha problemi di messa a fuoco? è Darkseal, quando non mette a fuoco Darkseal se no prova a fare un test della messa a fuoco, ovvero ti... allora, sono diversi i problemi di messa a fuoco, c'è il front-back focus c'è il non aggancio del soggetto, c'è una lentezza troppo perché le ghiere sono magari andate e ci sono diversi problemi che potrebbero essere da imputare, insomma, potrebbero imputarsi oggi ragazzi non so parlare come al solito potrebbero appunto affliggere questo problema dell'autofocus dipende un pochino, specifica un pochino il problema che hai te sono tre anni che faccio foto-video, Valerio, e non sono mai informato su fotografi famosi da qualche mese ho iniziato a seguire tanti youtuber sono questi fotografi super inflazionati ragazzi che arrivano da youtube e... come me? Boh, non lo so come si fa? Eh no, questo l'ho letto ho orientato la passione fotografica da mia madre, facevo matrimoni per passione usando un fotografo famoso della zona sempre fatto per passione ok Giovanni, ma benissimo sì, l'importante è che quando lo fai ti piaccia no, giusto, noi facciamo queste cose perché ci piacciono fare queste cose perché ci piace fare queste cose personalmente K.M. Curry ma forse più grande al mondo del cinema mi ha spinto a fare le foto quindi come fotografo forse Vittorio Storaro, Joe Alcott, anche Hitchcock era fortissimo come fotografo ci sono molte sue foto veramente, veramente fantastiche ho editato tutto da mio padre e la sua 80D buon pomeriggio, non ci annoio mai, meno male dai ragazzi, meno male Alessia non vi annoio mai alla fine mi sono preso la Fuji Instax Instax Wide 300 arriva venerdì, che bellezza Federico la Instax Wide io ho preso quella piccola perché perché quella Wide è brutta cioè nel senso è veramente brutta a vedersi è molto esteticamente brutta da morire però le foto sono molto più grandi sono il doppio di quelle normali e no, più che altro a me davvero era troppo ingombrante fai conto quella lì è ingombrante mi entra a malapena nella borsina quando vado a fare gli shooting immaginate la Wide che è tipo il doppio di quella ciao Jacopo grazie per esserti iscritto al canale speriamo che ti piaccia e che tu vada a vedere gli altri video e ti piacciono ancora di più un giorno prendendo un caffè al bar vedi un libro di Avedon e da lì mi sono ispirato molto a lui ok Gianluca questo era Gianluca li vedete voi i commenti, vero? sì ragazzi perché qui scorrono qui scorrono oh c'è Luca ciao Luca finalmente riesci a passare hai ragione hai ragione purtroppo ragazzi ho avuto così tanto da fare gli avevo promesso gli avevo promesso e andavo e mi hanno chiamato per per un'altra un altro evento proprio la sera in cui dovevo andare da lui e tra l'altro ti devo fare vedere le foto di me l'evento non so me ne ha merda però vabbè lascia a perdere un giorno vedendo ah quello l'ho letto raga con Firefox Quantum vedo alcuni video verdi e viola potrebbe essere un plug-in o comunque qualcosa di sbagliato perché usi Firefox Quantum cos'è poi Firefox Quantum la nonna ti regalava l'isoggetto ho una strana sensazione di ciò e vabbè te sai già la storia di non posso dirvelo ragazzi però tipo se magari succederà qualcosa in futuro ve la racconterò questa storia a me la passione per fotografia deriva Simone deriva più da specifici fotografi da alcuni scatti spettacolari di landscape e il genere che più mi prende più mi affascina e anche lì quando io iniziai a fare fotografia Simone ciao Marco grazie per essere iscritto al canale anche te e quando io iniziai a fare fotografia fate conto che il mio genere preferito era il paesaggio perché era l'unica cosa che potevo fotografare o comunque era lì per nessuno mi dava noia quando fotografavo i paesaggi ero piccolino e c'era un mio amico che forse l'ho raccontata già in un altro mio video questa storia qui c'era questo ragazzo qua che già faceva fotografia da da qualche tempo un po' più di me era più grande di me questo ragazzo e faceva le foto alle alle modelle anche lui no io all'epoca facevo solo paesaggi ma ero veramente piccino e facevo no no ma a me non mi piace fare le foto alle modelle io voglio fare i paesaggi perché i paesaggi sono belli le modelle sono le ragazze no no non c'ho voglia i modelli no per l'amor di dio di parlare con la gente voglio sto lì con il mio paesaggino non parlo con nessuno tranquillo tranquillino metto tutti i miei filtrini e faccio quello che mi pare a me e poi invece è andata a finire che un giorno mi ha portato con lui mi ha convinto ad andare con lui e io gli sarò per sempre grato per questa cosa qui e da quel momento in poi ho detto che cavolo me lo fa fare di fare i paesaggi e infatti da quel momento in poi ho smesso di fare foto ai paesaggi o comunque le fa soltanto di rado le fa molto di rado ragazzi purtroppo le foto ai paesaggi perché sì infatti se avete visto i video dell'alba che ho pubblicato l'altra settimana come Matteo e Manuele che mi hanno costretto cioè non è che mi hanno costretto però mi hanno detto oh domani si va a fare le foto all'alba e io lì sì l'alba c'è alle 5 io no e quindi è stato un po' un problema per la mia sveglia perché visto che mi sveglio presto praticamente tutta la settimana svegliarmi alle 5 anche il sabato o la domenica dove preferirei dormire fino all'una di giorno vabbè però però per fare queste cose con gli amici queste cose qui si fanno dai si fanno queste cose sono stato fin da piccolo fotografo di famiglia perché con il passaggio da analogica digitale sono sempre stato l'unico a saperle fare funzionare poi ho smesso per anni a causa dei cellulari tra l'altro allora questa ti racconto Doc Asdafa che la mia nonna quella lì che mi regalava l'oseggetta ha ancora una macchina fotografica della non mi ricordo della marca è comunque una di quelle compattine che ormai regalano nelle buste del Dixan e tutte le volte che si fa qualcosa tipo comunque fanno gli anni nonni o vado da lei tira fuori questa macchina qui che ormai avrà vent'anni sta macchina e fa Nicco mi fai le foto tipo così e vuole che gli faccia le foto con quelle poi lei le porta a stampare tempo fa ha portato a stampare le foto fatte con il cellulare perché le hanno regalato le hanno regalato un cellulare con che fa le foto ok casino tra l'altro anche lì perché già non sa cancellare gli sms immaginatevi fare le foto con il cellulare poi era nonna e va è andata a stampare le foto fatte con il cellulare io non ho parole è stata veramente quando me l'ha detto è stata veramente fantastica la scena ma io la adoro per quello ho comprato la mia vera prima macchina fotografica una Canon 80D solo da tre mesi e mi sono reso conto di non sapere niente di fotografia vabbè quello allora questa cosa qui non è vero doc cioè nel senso le fotografie si fanno si sono sempre fatte nello stesso modo ok tipo impostando tempi diaframmi e poi vabbè la sensibilità della pellicola ISO il sensore però il procedimento è sempre lo stesso non c'entra nulla avere una macchina rispetto all'altra l'importante è sapere gestire queste tre cose che poi in realtà sono due perché la sensibilità varia molto da persona a persona una volta che sai gestire i diaframmi e i tempi sei a cavallo poi per le composizioni per le regole c'è sempre tempo e c'è il tempo anche per non seguire queste regole vero giustamente giustamente le regole vanno fatte sono fatte per essere infrante quindi anche regola dei terzi sezione aurea noi non ce ne fiega nulla lo so Nick ma le foto della mini sono grandi come quelle dei santini allora guarda ti faccio vedere tipo si allora queste sono le foto la grandenza delle foto della instax mini mentre quelle della wide dovrebbero essere sono praticamente il doppio sono tipo così tipo più grandi dovrebbero essere il doppio insomma una bella differenza tra questo e quest'altro poi ora specifico meglio Darkseal alcune foto risultano sfocate con una sorta di micro micro mosso micro fosso micro fosso sono foto fatte nella stessa situazione con la stessa impostazione senza muovermi allora dipende anche dal dimmi una cosa però Darkseal quando scatti la foto ti assicuri che il tempo di scatto sia maggiore alla focale che stai utilizzando cioè deve essere più veloce della focale che stai utilizzando se ti utilizzi per esempio un 100 mm devi scattare almeno a un centesimo di secondo io scatterei anche a un due centesimo di secondo per essere sicuro che non ci sia del micro mosso se fai questa cosa qui questa è una regola da tenere sempre a mente se fai questa cosa qui non ti dovrebbe venire il mosso se ti viene il mosso lo stesso allora il problema è o perché c'è del front back focus ma in quel caso lì non ti viene mossa la foto ti viene proprio sfocata e diverso se ti viene mossa è per questa cosa qui se c'è il micro mosso è sicuramente questa cosa qua lo so che non riguarda la fotografia ma se mi interessava ma mi interessava sapere la tua opinione sulla Osmo allora Gianluca allora Gianluca la Osmo secondo me è un'ottima cosa se ti hai bisogno di fare dei video stabili ok però calcola che ha molte limitazioni una delle quali è la dimensione del sensore perché è piccolino come sensore a meno che tu non prenda la Osmo quella che ci vuoi mettere la macchina micro 4 terzi mi sembra che dovrebbe essere quella super fantastica che costa i miliardi la Osmo quella piccolina dipende un pochino a quanto la trovi perché costa è un po' sproporzionato il costo di questa cosa qui se la trovi intorno ai 350 euro 300 euro si se la trovi a di più no secondo me perché tanto vale che ci puoi prendere un ci prendi uno stabilizzatore e ci monti sopra la tua macchina fotografica e sicuramente fai video meglio da Panasonic G7 a Canon CD Mark II ragazzi si era detto di non parlare di macchine fotografiche si era detto di parlare di fotografi se non mi ricordo male Tamron 2470 farò bene? certo che fai bene Gianni è uno dei miei obiettivi migliori cioè uno dei miei obiettivi preferiti il 2470 f2.8 ora il Tamron dipende quale versione prendi perché ce ne sono 500 quelle più vecchie magari è vitale di prenderle prendi quella più nuova che dovrebbe essere anche stabilizzata oggi ragazzi non ho l'acqua ho la Coca Cola qui sponsor Coca Cola se stai guardando questo video e se mi mandi una bottiglia di Coca Cola io sono contentissimo mi accontento anche una lattina ecco Luca oh allora voglio sentire la storia di Luca Luca facciamo così ora so che siamo pieni di impegni tutti e due però se vengo su se riesco a venire su promesso fa un video dove te mi racconti la tua storia e così almeno mi racconti un pochino questa cosa qui e la mettiamo sul canale io ho iniziato il mondo del motorsport e ci sono rimasto è solo che ho voluto tutti i vostri andare al di là della rete e ho continuato finché non ci sono riuscito mi dà molta soddisfazione in che senso al di là della rete nel 96 ho iniziato quanto tempo è passato tanto tempo effettivamente nel 96 però si vede si vede che c'hai tutta questa esperienza Luca te lo dico sinceramente e fa regolo di terzi giustamente dici che le mirrorless della Nikon usciranno ma ragazzi ma non si sa neanche se usciranno è inutile pensare a quando usciranno secondo me fino a settembre dell'anno prossimo non se ne saprà nulla né di Canon né di Nikon questa è una scommessa ragazzi è settembre 2018 per le prossime mirrorless Nikon e Canon Nikon sta fallendo no Nikon non sta fallendo è che diciamo che Nikon sta puntando al mercato Reflex per adesso e solo il tempo potrà dirci se sarà giusto puntare sul mercato Reflex o no perché allora io anch'io quando avevo la Reflex dicevo eh le mirrorless no poi ho preso una mirrorless l'ho provata a un Sony Day ho avuto questo onore di provarla e no prima ho provato la Fujifilm anzi al Fuji Day ok e lì ho comprato la X100 che è una delle macchine preferite e da lì mi sono appassionato all'Electronic Viewfinder ed una delle cose più brutte diciamo o comunque più mi facevano temere il passaggio dal Reflex a mirrorless era appunto il mirino elettronico dicevo no ma io voglio vedere attraverso l'obiettivo cioè voglio vedere lo specchio voglio vedere l'immagine che c'è di là però quando ho provato l'Electronic Viewfinder e dopo un po' che mi ci sono abituato ragazzi è difficile tornare indietro cioè io difficilmente tornerei alle Reflex perché mi sono troppo più facili da utilizzare e non deve essere secondo me una cioè non devo non devo far fatica a usare la macchina fotografica c'è la tecnologia perché non utilizzarla è un po' come dire io ora per esempio io ho una macchina un'automobile ibrida e c'è il cambio automatico cioè ora dopo che ho provato questa piccola il cambio automatico tutte le volte che utilizzo una macchina con il cambio manuale dico ma che cavolo lo fa fare di utilizzare le macchine con il cambio manuale ma con il cambio automatico è 100 volte meglio stessa cosa per l'elettrone viewfinder fino a che non provi un pochino questi altri metodi non capisci mai qual è meglio ok giustamente è normale se uno non prova non saprà mai e questo vale per tutto mi sa non fate battutine però credo valga per qualsiasi cosa oh mi sono appena connesso non so di cosa avete parlato ma volevo chiederti cosa pensi delle foto di roberto panciatici sai non so chi sia roberto panciatici magari è uno famosissimo mi dovete linciare per questo ma non ho la minima idea di chi sia Nick un video in cui tu e altri fotografi di tua conoscenza scattate lo stesso soggetto per vedere come ognuno di voi interpreta lo scatto e risultato finale dopo l'eventuale post produzione allora le Mario ci abbiamo pensato a fare una cosa del genere ci abbiamo pensato a fare una cosa del genere e mi piacerebbe molto farla vedremo cosa arriverà in futuro sicuramente fino ad anno nuovo ragazzi non arriverà un video del genere ho tantissimi video arretrati da fare da mettere al di là della rete nel senso da spettatore a fotografo accreditato dentro in pista a pochi metri dalle auto e non in mezzo alla boggia quello giustamente ma quello Luca vedrai se ci vuoi lavorare è l'unico modo tra l'altro mi ci devi imboscare anche me hai detto ormai si è diventato troppo fan di Sony e Fujifilm ma non è vero non sono assolutamente fan dei marchi io a parte di Fujifilm Fujifilm si sono un fan di Fujifilm spiegatato però diciamo che io preferisco utilizzare una macchina che mi permette di fare quello che voglio io il più velocemente possibile e il più facilmente possibile se mi facessero per esempio una io mi sarei accontentato e qui forse sarò banale un'altra volta perché lo dico sempre della 5D Mark IV quella è uscita ora se fosse stata una mirrorless avrei preso sicuramente quella lì ragazzi però è una reflex e non la prendo perché voglio l'Electronic Finder tiè voglio l'Electronic Finder Fuji in un altro mondo Fuji ho due Fujifilm dietro di me per quello posso chiederti quale obiettivo grandangolare mi consiglieresti nel range dei 200-450 euro per una reflex canon apprezzo molti tuoi video allora un obiettivo grandangolare in quel range lì dipende da cosa ci devi fare comunque però io ti consiglierei il Tokina guarda il Tokina ce ne sono tantissimi di Tokina e varia il prezzo tantissimo in base appunto al diaframma c'è l'11-16 c'è il Sigma 10-20 che è fantastico ce ne sono tanti comunque e costano appunto su quella cifra lì sono tutti con la messa a fuoco automatica anche se sul grandangolo la messa a fuoco sembra un po' inutile però sono veramente comodi non stare magari a puntare su un obiettivo originale della Canon perché costa magari il doppio del Tokina ed è peggio soprattutto per qualità costruttiva i Tokina sono dei carri armati cioè nel senso li puoi tirare in terra e si rompono però si rompono meno dei Canon non li tirate in terra gli obiettivi ragazzi fate questa cosa XT2 più 23 1.4 XT2 è fantastica i 23 ragazzi allora io però se prendessi la allora io se passassi cioè se dovessi comprare ora una Fujifilm non passerei a Fujifilm ora perché ho già Sony però se dovessi comprare una macchina da zero e farci solo le foto cioè per farci foto e video ora come ora prenderei la XE3 neanche la XT2 la XE3 prenderei io e con il 56 mm con il 56 mm che è uno degli obiettivi migliori della storia degli obiettivi storiosi migliori e nulla e niente e il 23 mm sì 23 mm 1.4 e il 56 mm prenderei solo questi due obiettivi e ci starei alla grande guarda 200 euro Canon 18 10-18 esatto me ti dicevo prima Luca 10-18 400 euro il 10-22 un'altra pianeta il 10-22 è buono il 18 insomma ho i miei dubbi che c'è su Luca non so se ti appoggio il 10-18 ma il 10-22 te lo appoggio anche solo perché è F2-8 da grande fa Fuji sei il migliore solo per questo ha mosso si ritorna da Axil sei risvegliato da Axil a quella di prima rispetto alla regola del reciproco della focale infatti più che micromossa è poco nitida allora in quel caso potrebbe essere ma ci sono comunque tantissimi se vuoi fare un test e assicurarti che non sia appunto colpa dell'autofocus devi mettere delle cose metti delle cose tipo in fila che possono essere batterie oppure il liquido per pulire gli occhiali delle penne USB le metti tutte in fila uno rispetto all'altro dietro così un po' spalzati e metti a fuoco su quello che vuoi te e controlli poi al computer in post produzione che abbia messo a fuoco quello macchina sul treppiedi tempo di scatto veloce come ti pare sei su treppiedi e controlla al computer che non sia appunto un altro problema come per esempio se utilizzi un obiettivo che non è buono e vuoi scattare a tutta apertura tipo con il 50 mm 1.8 se scatti a 1.8 non sarà mai nitida la foto come scattare a 5.6 perché a 1.8 il 50 mm anche lo Yongnuo ha dei grandi limiti insomma ciao Fabio grazie per esserti iscritto al canale un treppiedi per la X-T2 con il giusto prezzo Mario qualsiasi treppiedi che regga quel peso lì ma non credo ci siano allora quando vedi il treppiedi più che altro la differenza la devi guardare quando c'è la testa o a sfera o a tre vie questa è la cosa che devi guardare è importante quando scegliere una rispetto all'altra cioè se fai oppure la testa video se fai video quella con appunto il bastone per muovere la macchina fotografica e la testa così io ora mi trovo bene allora io ho una testa a tre vie e una testa a sfera per le cose veloci prendo la testa a sfera perché è più veloce da muovere da cambiare inquadratura e o il brief il bifri il manfrotto bifri manfrotto bifri che ho fatto anche i video sul canale e se no con una testa a tre vie puoi prenderti un altro manfrotto oppure ti puoi prendere un coolman che costano il giusto o un benro che costano anche quelli il giusto l'importante è che te scelga una testa in base a quello che devi fare se devi fare paesaggi devi essere più precisino magari la testa a tre vie ti dà qualcosa di più di più preciso di più stabile magari che una testa a sfera cosa ne pensi della Fujifilm X100S da affiancare come secondo corpo alla Nikon D3S allora io la X100S l'avevo presa per affiancare la mia Reflex quando avevo la 5D Mark II ma la cosa bella è che poi alla fine sono finito ho finito per usare solo quella quando andavo a giro e quindi la X100S ha preso il sopravvento sulla 5D Mark II presa all'epoca quando faccio i viaggi porto sempre solo quella sono andato in America tre volte e due volte su tre ho portato solo quella quindi è un dipende da come preferisci scattare se ti piace scattare senza stare a cambiare zoom quindi senza avere uno zoom è un 35 mm equivalente più o meno e è una delle mie focali migliori per quando quando viaggio è una delle mie focali preferite quindi quindi io la prenderei senza dubbio te non lo so fai un po' come fai un po' in base al tuo genere di scattare cioè se hai una D3S e la affianchi come secondo corpo stai attento magari che cioè potresti utilizzare la D3S con un tele magari un 85 mm e sull'X100S hai il 35 mm equivalente ci fai praticamente grand'angolo e tele ci fai due piani è ottimo per fare gli eventi anche così almeno c'è qualcosa di leggero oppure appunto come dicevo prima se vuoi lasciare a casa il corredo con tutta la reflex e tutti gli obiettivi ti puoi portare soltanto la X100S molto più comoda le foto sono fantastiche la X100S ora l'unica cosa ti dico la X100S nella messa a fuoco pecca pecca parecchio per quanto mi riguarda quindi magari io prenderei la T anche soltanto per il fatto del del viewfinder nel lato piccolino e quella lì è una cosa fantastica questa lì non ce l'ha la X100S non ce l'ha e se no ti vendo io la X100S mi compro io la X100 quella nuova non c'è problema guardate su Instagram le foto di Federico Sciuca non so chi sia ma andrò a vederlo scrivelo su Instagram così se no non me ne ricorderò mai ciao a tutti come sempre presente in ritardo argomento del giorno Andrea parliamo di fotografi in realtà oggi però la gente sta divagando ragazzi state divagando non mi piace questa cosa questo andazzo un fidget spinner faccio come cosa nella pubblicità faccio come cattela nella pubblicità dell'Enel farò ruotare il fidget spinner fino a che non arriva una domanda sul fotografo cosa ne pensi di Instagram come portfoglio fotografico anche se ho notato che ci sono molti profili fake allora io ultimamente ho preso utilizzare solo Instagram per pubblicizzare le mie foto diciamo perché non scatto cioè non metto più i miei scatti su 500 pixel da qualche mese e dovrei ricominciare a farlo ora mi ci avete fatto pensare non ho un sito proprio personale ho un sito insieme ad altri ragazzi per appunto il fattore matrimoni però però secondo me Instagram è importantissimo Instagram è la cosa più importante meglio di una pagina Facebook io non ho una pagina Facebook personale però considero meglio Instagram della pagina Facebook le pagini Facebook sono troppo ormai tutti hanno una pagina Facebook e sono incasinatissime le pagine di Facebook tra tutti i post invece Instagram tutto molto più pulito più carino la gente vede subito le foto senza stare a vedere l'unica cosa è che devi tagliare le foto in formato quadrato e per esempio faccio vedere non so se avete visto il post sulla pagina di Facebook di oggi oggi ho pubblicato una foto nuova su Instagram e la foto nuova che ho pubblicato oggi è questa questa qua ok questa è la foto pubblicata oggi magari da qui non la vedete fa schifo comunque e questa foto qui è un crop di un'altra foto e io non l'ho potuta mettere nell'altra foto perché era troppo grossa io vi faccio vedere un po' se riesco a farvi vedere la foto completa perché dovrei avercela qua allora questa è la foto completa ok e il crop praticamente è questa parte qua ora questo è un caso in cui il 42 megapixel della Sony servono a qualcosa che con altre macchine non avrei potuto fare un crop del genere senza perdere il dettaglio c'è un dettaglio devastante il crop lì se andate a vederlo questo è appunto il scatto generale mi piaceva così non mi piaceva questo braccione perché purtroppo se tenete il braccio così è normale la prospettiva gioca brutti scherzi quindi mi piaceva lo scatto mi piaceva la cosa ma non mi piaceva il braccione infatti poi gliel'ho fatto cambiare non è che gli ho fatto cambiare il braccio non è un robot gli ho fatto cambiare la cosa però poi non mi è arrivata quell'espressione di prima che c'è in questa foto lì e quindi alla fine è andata e ho messo un crop di quella foto lì ed è questo e quindi la cosa brutta di Instagram appunto è che devi croppare le foto e da quando però utilizzo Instagram ho scattato cioè ho iniziato a scattare tantissimo in verticale perché è più facile croppare le foto in verticale che quelle in orizzontale ho notato perché quelle in verticale sai già dove vai a parare hai già destra e sinistra e devi soltanto mettere il giusto taglio sopra e sotto la Sony A7R2 COD WW2 tra l'altro io l'ho provata con lo video tipo World War 2 sono morto tipo nel primo schema perché io gioco soltanto a livello veterano nel primo schema sono morto 400 volte della serie ripulisci bunker sono morto tipo 10 volte al primo bunker che entravo col cavolo di Garand e la prima cosa ho fatto è cambiare il Garand con la MP40 e lì si ritorna alla guerra e così via la migliore lente tuttofare solo una curiosità serve meglio dire la meno o peggio allora come tuttofare io ti consiglio il 1750 Tamron o Sigma quello che trovi a meno f2.8 allora nella descrizione del video trovi un link dove c'è scritto i miei kit e se vai in quei kit lì trovi praticamente tutti gli obiettivi che io consiglio come tuttofare oppure come obiettivi da ritratto obiettivi da paesaggio se te vai a darci un'occhiata e insomma trovi tutti gli obiettivi che io ti consiglio fotografi Gnappo 22 ha scritto fotografi nuovi perché voi non lo vedete più fotografi nuovi di cui consigli i lavori da prendere come ispirazione ce ne sono tantissimi allora ce ne sono tantissimi di fotografi allora io più che altro allora ora vi spiego una cosa più che cercare i fotografi e ispirarmi ai fotografi perché io non voglio fare una copia carbone di quello che fa la gente cerco magari di di creare qualcosa prendendo spunto possibile possibile però voglio fare qualcosa di mio quindi magari mi piace un certo tipo di illuminazione quindi io punto su quello più che su ricreare una foto con l'effetto che hanno già dato altri fotografi magari per esempio in tantissimi mi scrivete e lo so ragazzi non vi rispondo mai a tutti perché dopo un po' mi dispiace anche non poter rispondere però siete in tanti magari mi scrivete mi mandate una foto di un fotografo a caso e mi dite come ha fatto lui a fare questa foto qui con questo effetto e sono praticamente tutti effetti lavorati tanto in post produzione e che io non posso stare a spiegarvi in cinque secondi con con un messaggio che dovrebbe esserci un tutorial enorme di tantissime ore per fare una foto del genere o comunque sono tanti passi che arrivano a quella cosa lì e quindi io più che altro quando devo cercare qualcosa e cercare una illuminazione cosa faccio? vado su Pinterest se non sapete cosa è Pinterest ragazzi è una appicazione secondo me dovreste scaricare tutti se volete fare fotografia e cosa fa Pinterest? io scelgo delle cose tipo ritratti pose outfit particolari è un agglomeratore di immagini e quindi io ho tutte queste immagini che mi appaiono e posso salvarmele in delle gallerie così almeno mi rimangono per esempio se mi piace questa qui io clicco su questo pallino qua e mi appaiono tutte immagini di questo tipo quindi bianco e nero comunque che che siano simili a questa qui ed è molto carino come programma non ci sono fotografie ci sono tutte fotografie possibile ci siano anche foto miei su Pinterest non ne ho la minima idea però è comodo se volete prendere qualche ispirazione magari per delle pose oppure per dell'illuminazione o per dei vestiti io lo utilizzo soprattutto quando devo fare degli shooting e non so come far vestire la modella cerco tantissimo su Pinterest cosa va di moda ora o comunque in base al luogo dove devo fare le foto scelgo l'accostamento dei vestiti vorrei stampare una mia foto mi sono imbattuto nel sito white wall allora apple and roar allora white wall è uno dei siti migliori migliori in assoluto per stampare le fotografie quindi vai sul sicuro white wall è veramente veramente fantastico se poi vuoi risparmiare qualcosina perché l'unica cosa è che white wall costa tanto se vuoi risparmiare qualcosina c'è pixar printing però se vuoi qualcosa veramente veramente di top white wall è veramente fantastico è uno dei siti migliori Simone se abbiamo iniziato a fare le foto dopo aver visto qualche foto al contrario se dopo ok bravo bravo Simone che stai riscrivendo tutto in così grazie mille però veramente a casa c'è bisogno di forza dell'assistenza perché Fuji non ha nel menu allora se devi correggere e la messa a fuoco nel senso devi ritarare l'obiettivo sì devi per forza mandarlo in assistenza a meno che non ci sia un strumento apposito però è una cosa dell'obiettivo comunque non della macchina fotografica e varia in base a quello anch'io per questo scatto in verticale oppure divido lo scatto in più posti a me non piace dividere lo scatto in più posti ma il problema è quello perché poi avrei tre post divisi tutte le volte devo pubblicare tre foto per farle riunire una accanto all'altra cioè nel senso non so se mi sono spiegato bene però non mi piace avere più foto divise cioè una foto divisa in più post su Instagram preferisco avere ogni post con una foto diversa semmai magari cerco di creare una specie di continuo perché per esempio guardate ora non so forse non così tanto come si fa tipo qui ho messo una foto in bianco e nero cioè a colori però con gli sfondo nero con i lati neri qui ho messo una foto in bianco e nero la prossima sarà una foto in bianco e nero con il nero da questa parte cerco di dargli una più o meno più o meno cercherò di dargli una una continuità non ce la farò mai perché dopo due foto metterò foto a caso però però ci ho provato ragazzi la cosa che non mi riesce per esempio a me è fare un Instagram tematico su una certa cosa no io voglio pubblicare qualsiasi cosa per quello per quello esiste Instagram perché è bello però se se lo fate per lavoro magari per avete solo quello e volete fare una galleria solo di determinate cose meglio tenersi più puliti possibili ho è apparso uno iscritto non ce l'ho fatta leggere mi dispiace chiunque tu sia che ti sia iscritto grazie per averci scelto come iscrizione puoi iscriverti a qualsiasi cosa insomma è su Instagram top c'era il mio nome nella notifica del tuo smartphone hai visto perché mi hai mandato mi hai mandato il messaggio esattamente quando ho fatto la cosa guarda tra l'altro c'è ancora la notifica qui non so se si legge Federico Federico sì esatto quello comunque onestamente se si vuole prendere qualche spunto sempre meglio 500 pixel 500 pixel è un altro posto dove prendere spunti esatto piccola domanda io ho una Canon 80D vorrei passare a mirrorless faccio sia foto che video mi conviene passare a Fuji allora se fai foto e video le ultime Fuji sono ottime anche per fare i video perché scattola in 4K e sto parlando della XT2 sto parlando della XT20 se vuoi risparmiare e sto parlando della XE3 che secondo me la XE3 merita tantissimo perché c'ha il joystick come la XT2 c'ha lo schermo che si tilta che la XT2 non ha o si o si tilta in un modo diverso aspetta no aspetta perché non voglio fare confusione non voglio fare confusione perché poi mi sbaglio io comunque vattene a vedere XT2 XT20 che costa meno XE3 che si mette in mezzo la XT20 è quella che costa meno poi c'è la XE3 poi c'è la XT2 e ti consiglio sì assolutamente di passare a Fujifilm perché Fujifilm è un po' un uno stile di vita uno stile di vita uno stile di fotografia molto diverso dal solito Vincenzo perché sono macchine fatte in modo diverso dal resto delle macchine che trovi ad oggi c'hanno tutte le ghiere sono fatte molto retro se ti piace avere una cosa bella estetica una bella cosa di metallo dura non plasticaccia assolutamente sì Fujifilm secondo me è tanta roba rispetto a comunque la massa di plastica che troviamo adesso al giorno d'oggi diciamo è la laica per i poveracci come me oddio che neanche tanto poveracci perché poi da finire che costano diversi soldi anche questi Fujifilm Nick io ho fatto la stessa cosa con Insta mi sono fatto le varie cartelle divise per categoria io lo consiglio perché è stracomodo ok Federico non capisco in che senso cosa voglia dire le foto le cartelle divise per categoria nel senso in base al tipo di scatto che fai quindi fai diversi diversi come si può dire ah ma forse stai dicendo di di Pinterest non capisco il discorso perché su su Instagram si possono fare le cartelle non ho capito un cavolo ok Federico non ho capito niente in realtà ora su Instagram puoi caricare anche le foto in quattro si lo so lo so lo so che puoi caricarle il problema è che non le carichi in come sono in realtà cioè non me le carica come sono in realtà me le carica tutte sfalsate e quando comunque vai a vedere nel profilo vengono vengono riallungate quindi cioè vengono riquadrate e poi se devi zoomare per forza per ingrandirle e comunque è diverso dal non so perché non le carica in formato corretto per esempio perché quella lì se la volessi caricare in quel modo non me la carica è possibile fare l'effetto con le ombre che risaltano il viso di un ritratto o comunque qualcosa di simile con un'illuminazione led fissa certo perché no allora ti faccio vedere ti faccio vedere una cosa questa illuminazione qua che mi arriva nella faccia è fatta da un led fisso ed è questo qua la ti faccio vedere questo questo è uno Yongnuo Yongnuo costa 40 euro guarda ti faccio vedere un pochino la differenza questa è la differenza che c'è di illuminazione nei ritratti che puoi fare anche con appunto questi leddini tipo da dietro puoi metterne uno dietro e fare tipo rim light vuol dire che fai tipo un contorno luminoso intorno ai capelli una cosa lo metti molto più indietro ora non lo mettere qui dove ce l'ho io è che c'ho il braccio corto non c'è purtroppo un braccio lunghissimo tipo così e vedi che c'ho una specie di rim light che sarebbe praticamente questa cosa qui dovrebbe essere più dietro dovrebbe essere più carino o ora meglio vedi qua intorno all'orecchio intorno alla faccia c'ho tutto una specie di contorno bianco mi piace sarebbe un verso avere un'altra luce di qua dovrei prendere un'altra luce e metterla da davanti e fare la luce frontale quindi questa dovrebbe essere la luce di compensazione rim light da dietro e poi una luce da davanti e mi creo dei bei contrasti molto carini esposti poi via via che giriamo la luce questo dovrebbe essere un piccolo tutorial ragazzi piccolo tutorial verso l'immunazione allora cerchiamo di tenere la luce in alto perché la luce in alto è più bellina e fa le cose più belle allora ovviamente sarebbe meglio avere tipo un paio di questi e un pannello riflettente un paio di questi in alto pannello riflettente sotto semmeno riflette sopra e non abbiamo non avrei gli occhi neri qua che sempre ho pesto da morire e non avremmo il naso sotto che ci dà tanta ombra con un pannello riflettente magari illuminiamo anche gli occhi che è molto carino da avere gli occhi illuminati come nella foto che ho pubblicato su Instagram ieri poi oggi oggi poi i contrasti si creano tantissimo poi dipende anche in base a quanto tieni vicino alla luce ora la webcam fa cacarissimo ragazzi quindi è un altro problema poi in base a come direziono la luce giustamente viene il contrasto posso creare il contrasto quello lì semplicemente avendo una luce davanti e in questo caso dovrei mettere una bandierina una bandierina o comunque un qualcosa che mi pare alla luce da questa parte qui mi pare la luce da questa parte e in questo modo mi direziono la luce su questa parte del volto qui ok dovrebbe esserci una una specie di si chiamano bandierine ma in realtà sono delle dei cartoncini diciamo possiamo utilizzare dei cartoncini neri per appunto andare a direzionare la luce o degli snoot se usiamo i flash gli snoot sono una cosa fantastica quando si utilizza i flash perché sono fatti tipo appunta in direzione alla luce del flash oppure ce l'avevo qui mannaggia una cosa ma non ce l'ho qui ragazzi ma porca miseria se non lo facevo vedere o potete utilizzare anche uno o questo non lo devo cioè lo dico davvero davvero potete utilizzare anche un paraluce per direzione alla luce del flash per filare il paraluce nella luce del flash ma dove cavolo ho messo ragazzi ragazzi ho perso ho perso il mio snoot ho perso lo snoot comunque c'è un'altra luce qui potrei utilizzare tutte e due andiamo un po' andiamo un po' se vi dicevo come vi dicevo prima se faccio la rim light con la differenza di prima Samuel Lee Jack apparente di Samuel L. Jackson tra l'altro appare Lee Jackson allora qui questa oh questa è più potente però aspetta io l'ho posizionata allora se io tengo questa dietro qua così ora no così non mi riesce sono sembro spastico ragazzi allora vediamo un pochino se ci riesco a posizionarla come pare a me tipo dovrei fare una cosa del genere dovrebbe stare più dietro dovrebbe stare più lontano comunque si vede la differenza rispetto a non avercela avercela non avercela crea più contrasto è più carino vabbè ragazzi vi faccio un tutorial a parte vi faccio un tutorial all'apposito con tutti i settaggi delle luci l'ho già fatto uno sul canale con tutti questi due lucini tra l'altro però però si può fare meglio lo farò meglio ragazzi lo farò meglio per voi invece d'altro è possibile fare questo l'ho letto quello di prima spero che Alessandro ti sia stata d'aiuto questa cosa comunque si si può fare fotografo MR007 su Instagram Nick finalmente da Canon 100D a Fuji X3 hai preso praticamente tutto quello che volevo fare io cioè nel senso è il mio set preferito questo l'X3 e il 23 vabbè avrei preso il 23 quello più costoso a questo punto però vabbè anche l'F2 per risparmiare qualcosina l'F56 1.2 ragazzi il 56 è veramente l'obiettivo migliore della storia secondo te vale la pena comprare i ridienti secondo me no secondo me no ci sono tantissimi altri software che ma poi allora c'è questa storia che Fujifilm non può sproduce bene cioè non c'è verso può sprodurre bene il formato del il rough della Fujifilm ma non è vero perché io con Instagram sì con Instagram io con Lightroom con le ultime foto che ho scattato con l'X100 ormai ho capito come può sprodurre bene e si può poi c'è Capture One cioè tra Irident io ti consiglio di prendere Capture One che è 100 volte meglio di Irident anche solo per professionalità dell'editing del colore non stare a sentire che dice Irident è meglio perché fai i file meglio ma si è abbassata la luce per caso ho abbassato la luce per caso per sbaglio non so un bel filtro ND 1000 per il 23mm allora ci prendi un OIA dai su Amazon prendi OIA ND ma prendi anche un 60 perché vuoi prendere il 1000 il 1000 è tantissimo prendi il 64 risparmi qualcosina il 1000 è tanto il 1000 è tantissimo buon pomeriggio a tutti bellissime ultime foto che hai pubblicato su Instagram grazie ah l'ho già letto grazie Samuele ciao Link per una volta riesco a vedere la tua diretta grazie Mr Gang spero che ti piaccia questa diretta è un po' diversa dalle altre è un po' diversa dalle altre ragazzi penso che il creare le cartelle su Instagram ragazzi prima si riferisce al salvataggio delle foto le vedi te puoi salvarle in cartelle organizzate ah ok Mirko ok dove è finito Federico Federico forse intendevi in quel senso e te ti salvi le foto nelle varie raccolte e tipo ti fai delle raccolte per tipo inspiration in quel senso lì non ti salvi io credevo che ti salvassi le tue foto in cartelle e quella cosa lì non capivo io ok ok ci sono ci sono ci sono sono un stupido ragazzi però non cioè sono stupidissimo però quanto pare ho capito finalmente la diretta grande Alfredo anche te sei riuscito a vedere allora l'indirizzo telegram è salvatore t.me slash crazy ring dovrebbe essere te lo scrivo te lo scrivo in chat te lo scrivo in chat è questo qui allora abbiamo ragazzi il canale telegram e cosa fa il canale telegram il canale telegram fa ve lo scrivo praticamente sul canale telegram tutte le cosine che accadono tutte le cosine che metto su quando metto le foto nuove quando faccio i tutorial quando sono a giro magari scrivo cose che che gli altri su instagram non vedono su facebook non vedono o su youtube non ce la faccio a mettere le metto direttamente sul canale telegram ancora devo iniziare a imbastirlo bene perché ho iniziato da una settimana o due l'ho fatto partire da questa settimana o due l'indirizzo per il canale telegram comunque ragazzi mi fa piacere se vi iscrivete così almeno sapete tutto e rimanete sempre aggiornati su qualsiasi cosa io faccia allora ragazzi io direi che possiamo chiuderla qui la diretta che sono già le tre e mezzo ve l'ho detto doveva essere una diretta veloce perché c'ho da fare una cosa però vabbè ragazzi io spero che vi sia piaciuto veramente tanto come al solito spero che gli argomenti siano stati interessanti non volevo parlare di macchine fotografiche ma alla fine abbiamo parlato di macchine fotografiche le stampe chi l'ha vinte durante l'ultimo concorso dei 35.000 iscritti le spedirò domani quindi domani chi ha vinto le stampe spedirò il tracking dovrebbero arrivare venerdì dovrebbero arrivare quindi in un giorno dovrebbero arrivare in qualsiasi parte forse non mi ricordo se c'era qualcuno non mi ricordo se c'era se un indirizzo di questi era tipo in Sicilia ma mi sbaglio no forse no no forse no no non è Sicilia ok a posto e quindi dovrebbero arrivare domani ti è arrivata la notifica della diretta perfetto perfetto Donato quindi noi ragazzi Diego di Donato Diego no Donato Diego noi ragazzi ci vediamo allora questo fine settimana con un nuovo video pubblicherò un nuovo video di cosa boh non si sa vedremo poi seguitemi su Instagram che se vado a fare le foto vado a giro con il drone così almeno rimanete sempre aggiornati anche ieri sera ho fatto un video piccolino eravamo a far volare il drone con della gente che lo sa fare meglio di me e nulla e quindi arriveranno dei video prossimamente anche su questa cosa qui quindi noi ragazzi ci vediamo settimana prossima io vi ringrazio tantissimo per essere passati oggi per aver dedicato questo tempo per appunto fare quattro chiacchiere con me la prossima volta magari vi voglio più attivi rispetto all'argomento quindi in due mi hanno detto i loro fotografi preferiti o comunque come sono approcciati alla fotografia o così via e quindi settimana prossima facciamo se ci riesco a questo punto facciamo il portfolio review che è da due mesi che lo voglio fare questo portfolio review ce la faremo a farlo cos'è qui questo affare nero che è questo affare nero ragazzi ho trovato della roba nera sul tavolo speriamo non sia roba velenosa perché la sto toccando noi ci vediamo settimana prossima ragazzi ciao è stato un piacere come al solito ciao